Architetto La Licata, ancora un corso di aggiornamento ma anche un corso di formazione altrimenti del quale vi vengono riconosciuti dei crediti formativi? Sì, ha detto bene. Innanzitutto buonasera a tutti. L'evento di oggi vuole essere un seminario di aggiornamento professionale che tratta i temi della deontologia con un tema specifico, contratti e parcelle. In qualche modo riusciamo anche a evidenziare i problemi che sono stati nel passato, quali problemi ci sono oggi in questo presente e quelli che eventualmente saranno nel nostro futuro. A tutti i partecipanti saranno riconosciuti quattro crediti formativi professionali obbligatori ormai ai sensi della linea guida e al regolamento per la formazione di tutti i professionisti e anzi ne approfitto per ricordare a tutti i colleghi architetti che nel triennio 2014-2016 hanno l'obbligatorietà di acquisire 60 crediti formativi professionali con un minimo di 20 crediti annui e di cui almeno 4 sulla deontologia. L'evento di oggi sta trattando proprio questo. Lo stiamo facendo pure a Canegati per consentire a tutti i colleghi di questo territorio di poter eseguire con più facilità questi corsi di aggiornamenti professionali. Cos'è cambiato rispetto al passato a oggi nella funzione del libero professionista e dell'architetto? È cambiato parecchio. Dalla riforma delle professioni che è entrata in vigore da circa un anno e mezzo, tante cose sono cambiate. Sono cambiate intanto le norme deontologiche, infatti questa sera parleremo delle nuove norme deontologiche che è tenuto ad osservare chi pratica la professione dell'architetto, ma sono cambiate soprattutto il modo di fare le parcelle. Sostanzialmente le tariffe minime sono state abrogate, sono state introdotte delle tariffe di natura giudiziaria che vengono utilizzate solo ed esclusivamente in caso di contenziosi. E poi adesso, da circa sei mesi per la precisione, dal 2013, quindi fine del 2013, sono stati introdotti nuovi decreti parametri ai quali bisogna fare riferimento per la compilazione delle parcelle. Noi questa sera abbiamo voluto incontrare come ordine degli architetti in un incontro decentrato qui a Canicattì i nostri colleghi proprio per venire a incontro ai colleghi architetti che fanno la professione e spiegare le modifiche in atto. Quindi d'ora in avanti il libero professionista deve attenersi a quelle che sono le nuove regole, ai nuovi comportamenti? Sicuramente, sono state introdotte con diverse norme, prima dal governo Monti, poi successivamente anche dal governo Letta, quindi bisogna esattamente attenersi ai nuovi regolamenti.